Buon pomeriggio, grazie alla biblioteca civica Gambalunga di Rimini e a Oriana Maroni per avermi invitata a fare questo breve video. Oriana mi ha chiesto qual è il libro a cui sono più legata o qual è il libro di cui avevo voglia di parlarvi oggi, perché poi alla fine è quello, nel senso che sono legata un po' a tutte le creature che scrivo, per me sono come figli in qualche modo. E al tempo stesso c'è sicuramente un libro che penso che sia più affine o che risuoni di più con questi giorni strani che siamo chiamati a vivere. Sono giorni in cui siamo confinati in casa, in cui ci è chiesto di non uscire, giustamente, e il non uscire diventa una forma, peraltro molto comoda per molti aspetti, ma comunque è una forma di resistenza civile. E quindi stiamo a casa, anche se dopo un po' non ne possiamo più. Sono giorni in cui non ci possiamo abbracciare, e questa per quello che mi riguarda è senz'altro la cosa che pesa di più, e sono giorni in cui ognuno alla fine è confinato con le proprie solitudini. E le proprie solitudini possono essere pesanti, possono essere aggressive, però sono anche un'occasione, un'occasione per cercare di capire quello che si muove sul fondo, per ascoltare tutta una serie di situazioni, movimenti interiori, paesaggi interiori, a cui di solito non prestiamo attenzione per i ritmi frenetici, o perché semplicemente è faticoso farlo. Diciamo che in questi giorni le alternative sono due, o veramente ci narcotizziamo e diventiamo insensibili a tutto quello che accade e a noi stessi in primis, oppure accogliamo l'occasione per leggere di più Stare nel silenzio, che è una parola abusatissima, nessuno di noi ne ha affatto veramente esperienza, però credo che sia un'occasione da cogliere al volo questa. Ed è il motivo per cui tra i vari libri che ho scritto, quello di cui vorrei parlarvi brevemente oggi, ma proprio in breve, Tracce dal silenzio, edito da Marsilio, ed è un romanzo che vede come protagonista una bambina di 10 anni che è diventata sorda in seguito a un incidente stradale e a Nina, così si chiama la bambina, viene applicato un impianto cocleare. Con questo impianto Nina sente, però la sera Nina lo toglie, è una buona prassi, lo toglie e mette l'audioprocessore, quindi la parte esterna dell'impianto cocleare, nel comodino. Si addormenta e a luna una musica la sveglia. È una musica che non dovrebbe e non potrebbe sentire, perché Nina è sorda e perché l'impianto cocleare, ovviamente in quel momento, non può funzionare. Nina sente questa musica ed è la sola a sentirla in casa, i suoi genitori non la sentono, tutto il resto della casa dorme. In quello stesso momento, quando Nina sente questa canzone, un uomo, una persona, viene uccisa vicino a un parco, vicino alla casa in cui Nina abita. Questi fatti di sangue che accadono nel presente hanno delle risonanze fortissime con dei fatti di sangue che invece accaddero nel 44. La vicina di casa di Nina, che si chiama Rebecca, una donna anziana che però nel 44 aveva la stessa età di Nina oggi, sicuramente ha molte chiavi per aiutare a risolvere questo mistero, però Nina ancora non lo sa e non lo sa neanche Rebecca. Quindi si tratta senz'altro di un incontro importante fra due generazioni che creeranno un ponte, fra due momenti storici, perché il passato, quando non viene risolto, è destinato a tornare. Quindi è un libro che parla anche di fantasmi del passato. È un libro in cui la parte più marcia dell'Italia è una parte che ci costringe a guardare la nostra storia negli occhi, perché i cattivi in questa storia sono tutti italiani, in qualche modo. Ed è un libro a cui sono molto legata e penso che questo parlare del silenzio, della condizione di isolamento, e del silenzio come in realtà un portale d'accesso verso mondi altri che non siamo in grado di cogliere quando siamo sprofondati in quella che chiamiamo vita normale. Ecco, io credo che tutto questo abbia delle risonanze anche con quello che siamo chiamati a vivere questi giorni e quindi tra i vari libri ho scelto proprio di parlarvi di questo. Grazie ancora alla Biblioteca Civica Gambalunga, grazie a tutti per veramente questa resistenza civile che stiamo facendo come segno di rispetto diciamo, gli uni verso gli altri. Dai che presto torniamo ad abbracciarci. Un bacione, ciao!